Eccolo puntuale, otto penalità per l'Italia adesso Luca Marziani che monta Saxio di Zayez, cavallo di undici anni. Luca Marziani gioca in casa, è romano, è nato nel 1979. Ho fatto parte della squadra italiana Leeds. Marziani che si definisce ora molto freddo, dopo essere stato un ragazzino molto emotivo. E qui c'è bisogno di freddezza di fronte a ostacoli impegnativi e davanti a una partea solta e in molti casi competente. La gabbia è bianco e nero. Se la cava bene anche sull'ultima combinazione allestita da Uriano Rezzani. Ora il verticale di barriere, bene anche qui, ancora due salti per Marziani. Bene sull'Ox, le onde, verticale e conclusivo, 75-41 e anche nel tempo. E dunque, splendida prova anche da parte di Luca Marziani che in sella a Saxio di Zayez si qualifica per il barrage. Ed è il decimo binorio che vedremo ancora all'opera, nella fase conclusiva, decisiva di questo piccolo Gran Premio. Adesso un Amazzone, che è Amazzone? Si tratta di Penelope Lettrevaux per la Francia e sella Anais Stefani Fendina di 13 anni. Grazie a tutti.